Buonasera a tutti, tre ospiti in studio questa sera per parlare di una proposta esperienzale orientata verso i giovani. Qui in studio con noi dicevamo Francesco Passalacqua, presidente provinciale delle ACLI, Mauro Montalvetti, presidente di PSIA, che ha ottenuto l'ombrogino d'oro dalla massima riconoscenza del Comune di Milano, e Daniele Sociarelli, che è il coordinatore di un progetto Terra e Libertà, ma vedremo poi di che cosa si tratta. Allora, intanto partiamo da Francesco Passalacqua, una proposta che nasce dal 5x1000, dall'utilizzo del 5x1000 delle ACLI del nostro territorio, che presentano un progetto. Inquadriamo il ragionamento che faremo oggi, Francesco. Sile ACLI quest'anno hanno deciso di destinare il 5x1000, che sono i proventi che hanno a disposizione, su una progettualità rivolta ai giovani, rivolta all'interno di una programmazione di proposte che abbiamo denominato Un Solo Mare, con la quale abbiamo già fatto alcuni eventi a livello cittadino, con a tema l'inclusione e l'accoglienza. E questa volta abbiamo deciso di orientare questa disponibilità in una proposta di bando indirizzato agli studenti delle scuole medie e superiori delle ultime due classi, agli studenti maggiorenni, perché partecipassero, questa è la nostra proposta, a un bando che potrà essere sviluppato in questo concorso sia con un elaborato letterario, sia con un elaborato fotografico, uno scatto fotografico, sviluppando il tema di questo bando, che è una domanda che è tratta dal dialogo tra due combattenti che è nell'Iliade di Omero, tra Glauco e Diomede, e che è perché mi domandi la stirpe. Questa è una domanda molto suggestiva, che appartiene alla nostra cultura occidentale, alla cultura greca, e che rimanda al concetto di ospitalità, ma ci rimanda anche a altre dinamiche. Nel momento in cui questi due combattenti, predestinati a essere su fronti contrapposti, predestinati a doversi combattere, incominciano a parlare tra di loro e scoprono storie antiche di ospitalità che hanno vissuto, imparano a riconoscere questo come appartenenza alla propria tradizione, di smettono di guerreggiare e si fanno dono reciproco delle armature. Questa è una dinamica che fa parte della nostra tradizione culturale e che è ancora ad oggi lo stereotipo per affrontare i processi di integrazione, di accoglienza e di comunicazione. L'esito di questo bando non sarà una borsa di denaro, ma è la proposta di un'esperienza, di una proposta esperienziale, quasi un rito iniziatico all'età adulta, cioè si diventa adulti assumendosi delle responsabilità. Gli assegnatari di questa borsa di studi avranno l'opportunità di avere pagato dalle ACLI un'esperienza di 15 giorni di volontariato internazionale presso uno dei campi organizzati da IPSIA, l'ONG delle ACLI, con il progetto Terra e Libertà, per fare un'esperienza diretta e personale sul fronte dove passa la storia, farla con l'entusiasmo dei giovani e senza le riletture che arrivano dalle comunicazioni, ma con un'esperienza diretta. Insomma, un'avventura, una proposta di esperienza, un'avventura che riesce a far crescere. Esperti in questo settore abbiamo Mauro Montalvetti, Presidente di IPSIA e intanto che cosa fate in senso generale? Sì, noi è un'organizzazione non governativa, l'ONG promossa a livello nazionale dalle ACLI, progetti di cooperazione e di utero sviluppo nei Balcani dove abbiamo iniziato e in Africa. Accanto a questa attività professionale di progetti di cooperazione abbiamo sempre affiancato da oltre 20 anni delle attività di animazione di volontariato internazionale destinato specificatamente ai giovani nella stagione estiva, poi la possibilità anche di proporlo in altri momenti dell'anno, ma focalizzato soprattutto nell'attività durante l'estate e destinato ai giovani per far sperimentare in prima persona l'esperienza e la conoscenza di questi territori complicati ma estremamente ricchi, soprattutto nell'area dei Balcani dove noi abbiamo iniziato a lavorare più di 20 anni fa proprio in occasione delle vicende drammatiche che coinvolsero Jugoslavia e la guerra civile che ne conseguì. Da allora poi siamo rimasti, sono nati anche rapporti tra le comunità, tra le persone, siamo cresciuti insieme in qualche modo e ora siamo presenti attraverso attività di animazione e soprattutto in questo progetto che abbiamo che si chiama Terra e Libertà e che da 20 anni coordiniamo nella zona. Avete un'esperienza consolidata, i giovani rispondono a questa chiamata? I giovani rispondono, rispondono con modalità e con scopi che si sono molto differenziati nel corso degli anni, mentre oggi soprattutto la cosa che più interessa è provare a sperimentarsi di persona in un contesto diverso per poi portare a casa e in qualche modo vendere come meglio credono loro questa esperienza che però di farla assieme, comunitaria e con gli altri, di contatto diretto con i ragazzi è forse una delle cose più importanti, mi viene da dire in queste fasi. Una formula innovativa di Erasmus in qualche modo. In qualche modo, è destinato a un progetto più sociale. Bene, bene. Il coordinatore un po' di questo progetto è Daniele Sociarelli. Ora, ovviamente se vogliamo pubblicizzare questa cosa, i giovani vogliono sapere che cosa andranno a fare, quali saranno i loro compiti, quali saranno anche le esperienze che potranno fare. E allora vogliamo parlarne, insomma, dire qualche cosa. Certo, sicuramente meglio di me anche le immagini che scorrono sullo schermo raccontano che cos'è questa esperienza. È un'esperienza molto semplice di per sé, che ha come oggetto una cosa che tutti noi sappiamo fare, che è il gioco e attraverso la ludopedagogia, quindi l'insegnamento attraverso il gioco, il laboratorio, attraverso lo sport, di alcuni messaggi importanti che servono non solo per gli obiettivi del gioco, ma anche per gli obiettivi della vita che ognuno ha. Quindi quello che noi chiediamo ai volontari è di partire con noi, di farlo in gruppo, di non farlo da soli, quindi questi ragazzi partono in piccoli gruppi da 8-10 persone, accompagnati da dei volontari un po' più senior, che noi chiamiamo responsabili, che hanno già fatto esperienze con noi, che li accompagnano durante questi 15 giorni in queste località, soprattutto dell'Europa dell'Est, dell'Exigoslavia, quindi l'Albania, la Bosnia, il Kosovo, ma anche appunto il Senegal, il Kenya e il Mozambico. Obiettivo di questi 15 giorni sostanzialmente è provare a cambiare un piccolo pezzetto dell'anno a dei ragazzi di alcune comunità all'interno delle quali noi interveniamo tutto l'anno, con altri progetti di altro tipo, di cooperazione un po' più strutturata, economica, finanziaria, agricola, ma che spesso tengono un po' a margine questi ragazzi. Allora d'estate, in collaborazione con le scuole, con i centri giovanili con i quali collaboriamo, piuttosto che con gli orfanotrofi, proviamo a dare un picco verso l'alto a queste attività e quindi ai volontari chiediamo di venire, giocare con noi, ma soprattutto di provare a conoscere dei paesi, la storia di questi paesi, soprattutto quelli dell'area balcanica, che spesso un po' attraversano, hanno avuto la storia d'Europa al loro interno, di provare a conoscerli partendo dalle persone, non tanto come turisti, come si potrebbe fare normalmente, ma provando a conoscerli dai bambini. I bambini sono un ottimo strumento, un'ottima modalità per conoscere quelli che sono usi, costume, tradizioni, modi di pensare, modi di vivere e perché no confrontarsi con dei coetanei, i volontari locali di PSIA che lavorano a titolo volontario in questi paesi e capire come si sta alle porte dell'Unione Europea. Ecco, i giovani solitamente apprendono queste notizie e si fanno prendere dall'entusiasmo, spesso sono frenati dal dubbio della loro adeguatezza. Occorrono dei bagagli personali particolari o è un'esperienza che è davvero possibile per tutti? Io direi che è alla portata di tutti e lo racconto attraverso la mia esperienza. Io ho un percorso di studi che con l'educazione c'entra poco, ho studiato agraria, però ero bravissimo a giocare e a far giocare, quindi mi sono trovato nel lontano 2002 a vivere questa esperienza senza sapere dove fosse la Bosnia-Herzegovina, questo è stato il mio caso, senza conoscere la lingua, ma con una grandissima voglia di provare a fare delle cose in maniera concreta. Era quello che diceva Mauro magari anche prima, cioè provare a giocare con delle persone che con me hanno da condividere lo scopo di quello che stiamo facendo. E quindi non servono particolari capacità, se non quella grandissima voglia che contraddistingue i giovani, le persone che hanno 18, 19, 20 anni, di scoprire il mondo e di farlo non da soli, ma condividendo con altri pensieri, perché no, impressioni e sguardi sui contesti nei quali lavoriamo. Quindi non serve un bagaglio incredibile, anche proprio fisicamente, di solito partiamo con uno zaino per avere un bagaglio agile, muoverci e essere di poco impatto anche nelle comunità nelle quali interveniamo. Spesso sono piccoli paesi, non sono grandi città, proprio perché il cambiamento e l'incisività di quello che facciamo in piccole realtà è più forte e più duraturo nel tempo. Quindi è un'esperienza riservata a tutti quelli che con un po' di buona volontà vogliono affrontare questa nuova avventura che può far crescere davvero. Questo far crescere i giovani è negli scopi dell'ipsia, mi pare di capire, perché è un'operazione internazionale, ma avere davvero questo impeto di partecipare a questi momenti straordinari, forse irripetibili. Vogliamo fare un invito a questi giovani a non farsi intimidire? Non avere paura mai, confrontarsi sempre con quello che è diverso da te e trovare naturalmente i percorsi per poterlo praticare. Questo è assolutamente un invito che facciamo a tutti. Del resto noi abbiamo anche sempre affiancato altre attività, la proposta del servizio civile internazionale, il servizio volontario europeo, l'educazione informale, ecco diciamo un po' quello che è il nostro filo conduttore, che ci permette di far avvicinare i giovani di diverse culture e esperienze. Ci sono momenti formativi che precedono l'esperienza? Assolutamente sì, perché i contesti di intervento non sono tutti uguali, i contesti di intervento vanno compresi, ma vanno compresi anche gli obiettivi che l'organizzazione si dà e questo è il consiglio che diamo un po' a tutti quelli che si avvicinano a esperienze anche simili alla nostra, è di conoscere molto bene con chi si parte. Quindi abbiamo due incontri residenziali prima della partenza, in cui tutti e cento e più i nostri volontari, questi sono un po' i numeri che coinvolgiamo durante l'anno, si confrontano sia con il gruppo con il quale partiranno, che conosceranno in sede di formazione, ma anche con gli altri che andranno nelle altre località, proprio per provare a capire il perché siamo mossi verso questo tipo di attività, cosa fa l'organizzazione con la quale stiamo partendo, che cosa andremo a fare, e quei due o tre strumenti magari di lingua, gioco o laboratorio che servono per farsi trovare pronti nell'istante. Francesco, questa mattina avete iniziato un percorso nelle scuole, avete trovato peraltro una grande attenzione degli studenti, ma vogliamo dire anche ai nostri telespettatori, come fare a partecipare a questo bando? Cioè è necessaria qualche iscrizione? Ci sono dei riferimenti particolari a cui rivolgersi per avere ulteriori informazioni? Sicuramente il bando è rivolto agli studenti delle ultime due classi degli istituti superiori, e quindi ha una sua formalità, nel senso che passerà attraverso gli istituti scolastici. Come si può trovare, Francesco? Verrà inviato tutti gli studenti entro la settimana, tutti gli istituti superiori delle scuole spezzine, verrà inviato il bando che sarà da presentare all'elaborato entro la fine di maggio. Naturalmente, indipendentemente da, diciamo, le borse esperienziali, chiamiamole, che sono messe a bando dalle ACLI, la sollecitazione è che laddove all'interno delle classi ci fosse una curiosità di voler sperimentare questa proposta e di provare a poterla vivere, tramite gli insegnanti di riferimento, di darne comunicazioni alle ACLI provinciali, che hanno già preso in tese con Ipsi, in maniera da poter anche trovare delle modalità che rendano, indipendentemente dall'assegnazione del bando, condizioni possibili e accessibili a tutti per poter affrontare questo percorso, che è un percorso di crescita e di assunzione di responsabilità che riteniamo strategico per diventare cittadini adulti e diventare persone capaci di relazione. Bene, davvero un progetto interessante, grazie ai nostri ospiti e non perdete questa occasione, questo è rivolto ai giovani perché è davvero un'occasione irripetibile nella vostra vita. Grazie. Grazie.